Dario Campesandi Costa Bissara a soli 25 anni già esercita la professione di avvocato e si tratta ad oggi del più giovane in Italia in assoluto. Ormai ex studente universitario dopo aver conseguito le lauree in giurisprudenza in tempi record nei mesi scorsi, è riuscito da poco a superare gli esami di Stato per l'abilitazione della professione. Ospita Radio Econcentino e lo stesso Dario raccontare come nonostante fosse portato per le materie scientifiche, fin dalle superiori in qualità di rappresentante di classe ha iniziato ad interessarsi alla difesa dei diritti dei suoi compagni di scuola. La passione per queste tematiche lo ha portato ad intraprendere gli studi di giurisprudenza all'Università di Padova, sebbene il padre avvocato lo avesse sconsigliato di seguire questa strada. La capacità di saper gestire il tempo e la collaborazione con i compagni e una buona dose di fortuna, tutte insieme hanno portato Campesanga a concludere gli studi in meno di 4 anni, laddove sono in pochi a farcela nei 5 previsti, divenendo così uno dei più giovani laureati in giurisprudenza d'Italia. Malgrado il grande impegno richiesto durante gli studi Dario non ha mai rinunciato alle sue passioni come giocare a pallone e suonare la chitarra. Per evitare che giurisprudenza mi schiacciasse volevo organizzarmi il tempo per riposarmi, per lasciare spazio ai miei hobby, per stare con la mia ragazza, era necessario per non scoppiare dallo stress, racconta il giovane avvocato. I compagni di studio che Dario sono stati essenziali, stiamo parlando di un percorso molto carico e pesante, quindi avere delle persone su cui appoggiarsi e confrontarsi è fondamentale, ha spiegato nei giorni scorsi ai microfoni di Radio Eco Vicentino. Grazie. Grazie.